E quindi questo congresso dovrebbe darci la capacità, l'urgenza, il desiderio, una spinta, un esempio di come ci connettiamo. E giustamente non sarà la forma finale o corretta perché stiamo appena iniziando, però sarà un passo molto importante. Io direi che dovremo vedere in questa azione la nostra nascita spirituale. Perché se noi veramente cerchiamo di connetterci sopra tutti i disturbi, più in là delle forze che ci spingano, che ci allontanano uno dall'altro, questo è il lavoro. Questo è il lavoro e questa è la realizzazione e speriamo di venire ricompensati giustamente con questo. Questa è la cosa più importante, ossia che non importa quanto studiamo o cosa studiamo, ma la cosa più importante è la qualità, la natura della connessione tra i gruppi. Perché noi possiamo sentire e nonostante le lingue, i linguaggi, le difficoltà, anche potremo avere problemi con gli orari del congresso. Dobbiamo vedere se questo sarà adeguato per il contenente americano e che il congresso sia un po' di qua e un po' di là. Perché questo è il mezzo è cercare veramente di arrivare alla connessione. Bene, in riassunto, questa è la cosa più importante. Un gruppo piccolo, un gruppo grande, un gruppo di cinque persone o più, noi già cominciamo a considerare questo come un gruppo, sì? E speriamo che così sia e a parte questo ci sono altri gruppi come il gruppo di Nord America, il gruppo d'Europa, il gruppo del Belgio virtuale o Ketteringburg. Io spero che questi gruppi anche cerchino di essere connessi in forma fisica e che anche loro si connettano insieme in un solo posto, sì? Se è possibile, se è possibile solamente e che loro si riuniscano in gruppi e quindi nel frattempo inizieremo adesso la seconda lezione. Però, ripeto, la cosa più importante è che non è la lezione ma quello che c'è nel mezzo tra le parole, tra le conversazioni. Ossia, quanto cerchiamo di vedere gli amici, non solamente quelli di fronte a noi negli schermi, ma anche dentro i nostri cuori. Quindi, questo giustamente ci darà tutto il risultato spirituale.